Rudolf è una renna, vive al Polo Nord insieme a Babbo Natale e le altre renne. Ha il naso rosso e le altre renne hanno il naso nero. La renna Rudolf era triste perché le altre renne le devono di lei per il suo naso rosso. Una vigila di Natale, c'era tanta nebbia e Babbo Natale non riusciva a vedere niente. Allora prese la renna Rudolf e la mise davanti alla slitta. Con il suo naso rosso illuminò la strada a Babbo Natale. Babbo Natale riuscì a portare i doni a tutti i bimbi e la renna Rudolf fu felice perché le altre renne divennero sue amiche. Grazie per la visione! Grazie!